le nostre leggi razziali del 1938 e la Russia beh il titolo lo scriverò così leggi razziali e Russia in maniera che sia più sintetico però io esordisco con le nostre leggi razziali del 1938 e la Russia perché? 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 sul fatto quotidiano trovo un articolo molto molto interessante anzi direi interessantissimo questo articolo molto 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 interessante anzi interessantissimo è del 25 febbraio 2023 ed è intitolato lo scrittore lo scrittore Paolo Nori dice alla TV Rassette dice due punti aperti gli italiani si credono superiori ai russi ma fatela voi italiani la rivoluzione con le leggi razziali nel 1938 nel 1938 non ci fu nessuna rivolta si si bellissimo l'articolo bellissimo l'articolo bravo bravo scrittore bravissimo scrittore caro lo sai lo sai Paolo Nori che conosce la lingua russa è esperto di letteratura letteratura russa e traduce traduce i grandi romanzieri russi in lingua italiana lo sai Paolo Nori che anch'io sono uno scrittore Paolo Nori ho scritto tanti libri Paolo Nori sai questo è soltanto il mio ultimo libro Paolo Nori è un romanzo storico voi vedi che è intitolato La comita dell'imperatore un romanzo storico ambientato fra il 1200 e il 1250 dopo Cristo al tempo del grande imperatore Federico II di Sveglia e vedo che tu sei appassionato dei Fido Dostoeschi anch'io sai anch'io sono appassionato dei Fido Dostoeschi sai Paolo Nori ha delitto e castigo delitto e castigo e poi poi i fratelli Caramazzo i fratelli Caramazzo l'idiotta ha poi le memorie del sottosuolo le memorie del sottosuolo l'esistenzialismo è stato uno scrittore esistenzialista beh allora intervistato alla TV La Sete lo scrittore e traduttore Paolo Nori dice mi stupisce l'idea che gli italiani che non hanno di mistichezza con la Russia hanno dei russi mi stupisce ciò che gli italiani pensano dei russi anche se gli italiani non li conoscono i russi perché gli italiani credono che i russi stanno zitti perché Putin ha fatto la guerra contro l'Ocraina no la verità è che non è vero che tacciano una buona parte della popolazione una buona parte è d'accordo col governo è d'accordo col governo è tanto semplice è scritto qua non è che 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 tacciano che stanno zitti per paura no dice dice lui il fatto è che una buona parte della popolazione è d'accordo col governo una buona parte cosa vuol dire una buona parte è 75 80% e poi fa un riferimento alle leggi razziali italiane quelle del 1938 no dice è perché noi italiani ci siamo forse ci siamo forse ribellati contro le leggi razziali del 1938 e dice qua e mi è venuto in mente che nel 1938 quando sono state emanate le leggi razziali in Italia non è mica scopiare la ricotta popolare ah 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 poi e qua il giornale il fatto quotidiano precisa che l'anno scorso cioè nel 2022 e subito dopo lo scoppio della guerra in Ucraina e lo scrittore non lo scrittore che doveva tenere all'università Bicocca Bicocca una serie di lezioni su Fedor Dostoeschi e invece non poter tenerle perché l'università Bicocca si vede che non voleva che si parlassi di questo grande scrittore russo russo sì sì beh sentite io questa bella notizia ve la metto come linea sotto di questo video e vedete si torna sempre alle leggi razziali perché è il popolo italiano è il popolo italiano ma anche quello tedesco quello tedesco dove c'è Ursula von der Leyen il popolo italiano dice ma 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 com'è ma com'è che 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 stanno tutti zitti e vladini tutti ha invaso l'Ucraina e perché stanno tutti zitti e lui ha risposto ha risposto lo scrittore ha risposto che stanno tutti zitti perché sono d'accordo col governo e ma e gli italiani che hanno fatto quando nel 1938 sono state varate le leggi contro gli ebrei ma ma voi che mi state seguendo cari amici lo sapete che che nel 1938 in Italia il fascismo ha varato le leggi contro gli ebrei lo sapete o non lo sapete è nel 1938 la legge contro gli ebrei non non erano chiamate le leggi contro gli ebrei perché si vergognavano a scrivere le leggi contro gli ebrei le chiamarono le leggi per la protezione della razza pensate voi la razza la razza italica quella che doveva fondare di nuovo l'impero l'impero come nell'antica Roma la razza italica che poi che poi il fascismo dichiarò guerra all'Inghilterra alla Francia agli Stati Uniti d'America alla Russia pensate un po' voi pensate un po' voi scusatemi che me 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 mega Romania pensate un po' voi la razza e furono parate le leggi contro gli ebrei contro gli ebrei beh in Germania successe di peggio con la legge di Norimberga perché in Germania le cose si fecero in maniera tecnologico scientifica c'è pure la Shoah sapete tutti cosa è stata la Shoah la Shoah dire Shoah vuol dire 6 milioni di ebrei europei europei messi nei lager nelle camere a gas e poi lassù nei forni crematori però pure noi pure noi ci siamo accotati alla Shoah capito anche noi italiani cristiani cattolici cristiani cattolici ama il prossimo tuo come te stesso anche noi ci siamo accotati alla Shoah voleva dire eliminare gli ebrei senza pensare senza pensare che noi cristiani cristiani c'è il messaggio di Gesù il messaggio di Gesù era un ebreo Gesù era un ebreo quando furono fare delle leggi razziali nel 1938 nessuno pensò a queste leggi razziali sono leggi contro gli ebrei ma Gesù era un ebreo allora queste leggi razziali sono contro il cristianesimo e poi anche Mosè era un ebreo anche Mosè era un ebreo e nessuno l'avrà detto al duce o al re ma duce re ma guardate queste leggi contro gli ebrei fanno colpire pure Mosè Mosè che è quello che ha creato che ha ricevuto da Dio i dieci comandamenti i dieci comandamenti mi piace molto l'intervento l'articolo apparso sul fatto quotidiano mi piace tanto tanto bravo scrittore bravo bravissimo scrittore Paolo Nori che sei uno scrittore sei esperto di letteratura russa traduci grandi romanzieri russi bravo molto bravo caro Paolo Nori però io sono il tuo collega Paolo Nori capito? io sono il tuo collega perché anch'io sono uno scrittore Paolo Nori eccomi qua qua sono riportati alcuni dei titoli dei libri da me scritti e pubblicati capito Paolo Nori capito Fatto Quotidiano e questa è la mia ultima opera Paolo Nori Fatto Quotidiano capito? vedi la comandamenta dell'imperatore che è un romanzo storico ambientato fra il 1200 e il 1250 dopo Cristo se senti Fatto Quotidiano vedi che io ti onoro io ti onoro io parlo sempre dei tuoi articoli Fatto Quotidiano se tu Fatto Quotidiano mi farai pervenire il tuo preciso recapito postale Fatto Quotidiano io se è la Fino Massoni a mie complete spese ti farò pervenire una copia di questa mia ultima opera vedi la comandamenta dell'imperatore in maniera che tu Fatto Quotidiano possa farne una bella recensione nelle tue pagine culturali ok Fatto Quotidiano bravo bravo Fatto Quotidiano hai fatto bene a parlare di questo scrittore e traduttore di opere in lingua russa bene bene a te Fatto Quotidiano e a tutti voi tanti cari saluti da da la comita dell'imperatore grazie